Vi vedo animali da divano che non siete altro, state guardando questo video completamente stravaccati con una mano che tiene il telefono e l'altra che rovista il fondo di un sacchetto di patatine e magari nel frattempo ci avete pure l'ansia perché sapete che dovete studiare quindi quelle patatine saranno al gusto di senso di colpa. Adesso basta però, col video di oggi vi trasformerete step by step in delle macchine professionali da pianificazione totale in un mese e mettete via le patatine. Una delle cose più importanti in assoluto per pianificare in modo ineccepibile è sapersi creare gli obiettivi giusti. Oggi pomeriggio studio non è l'approccio corretto, ci vuole precisione, concretezza, una lista con l'elenco di tutti i micro obiettivi da raggiungere durante la giornata. Ma un attimo, ci arriviamo con calma. Nel corso del video vi spiegherò come arrivare da questo a questo. Prima di tutto mi trasformerò ancora una volta nel Jordan Peterson della situazione e vi dirò Clean up your room. Mettete in ordine il vostro ambiente, la vostra maledetta stanza, niente libri sparsi sulla scrivania, foglietti appesi allo schermo del computer e oggetti vari che minacciano di continuo la vostra capacità di concentrazione. Lo ripeto per l'ennesima volta, sulla vostra scrivania deve esserci solo quello che vi serve, minimalismo totale. E soprattutto niente telefono che poi vi ritrovate a guardare video di gente poco raccomandabile invece di studiare. L'obiettivo non è soltanto quello di avere un ambiente più adatto alla concentrazione, ma anche e soprattutto quello di fare il primo passo verso la costruzione di un proprio ordine mentale che è fondamentale per arrivare ad una pianificazione efficace. Quindi non perdete tempo, mettete in pausa il video e andate a sistemare la vostra stanza. E non fate quelle facce balordi che è un'operazione che vi porterà via al massimo un'oretta e vi darà anche un certo grado di soddisfazione. Parola di ADC. Poi almeno una mezz'ora alla settimana la dedicherei a tenere tutto in ordine, altrimenti l'entropia prenderà il sopravvento e vi ritroverete al punto di partenza. Adesso è arrivato il momento di dare una struttura il più prevedibile possibile alla vostra giornata. Dormire quando è ora di dormire, mangiare quando è ora di mangiare e studiare quando è ora di studiare. La routine è noiosa, lo so, ma è anche potente. Non potete basare tutto sulla vostra forza di volontà, non vi porterà molto lontano. Dovete creare delle abitudini concrete e consolidate. L'importante comunque è abituarsi gradualmente a creare degli spazi dedicati interamente allo studio, in modo che il vostro cervello non sia continuamente tentato di fare altro. Quando c'è da cazzeggiare, si cazzeggia, va benissimo, ma quando c'è da lavorare sodo, si lavora sodo. Questa è professionalità. Se volete darvi una spintina in più, potete sfruttare la tecnica del reward and punishment che ho deciso di dire in inglese perché volevo fare il figo, ma non si tratta altro che un principio tanto semplice quanto efficace. Darsi un premio quando si fa il proprio dovere e fustigarsi brutalmente quando non lo si fa. Ovviamente scherzo, diventare troppo estremi non è mai una buona cosa, ma delle semplici azioni come mangiare il nostro gelato preferito dopo aver rispettato la struttura della nostra giornata o vietarsi di guardare Instagram o di fumare come punizione per non averlo fatto sono sicuramente uno strumento da prendere in considerazione. Quindi sbizzarritevi con regalini, dolcetti e strumentopoli misteriosi. E se invece non studiate, questa fase durerà per tutto il mese, ma sarà il vostro focus principale nelle prime due settimane. Oltre ad avere una struttura solida su cui appoggiarvi, quello che vi serve è creare degli obiettivi giornalieri, come dicevamo prima, chiari e specifici, non andare a caso. Potete anche prendere carta e penna per farvi delle liste da spuntare man mano che portate a termine i vostri task, oppure scaricare delle app con funzioni simili come Todoist. L'importante è che possiate visualizzare concretamente quello che vorrete o dovrete fare e tenere poi traccia del vostro progresso, questo è importantissimo, magari aiutandovi con strumenti come la tecnica del pomodoro. Questa cosa funziona tanto nello studio quanto nel lavoro o in altri ambiti, come il fitness. Un conto è dire voglio perdere 30 kg e un altro è decidere di iniziare a correre 20 minuti tre volte alla settimana. Essere concreti e scendere nel dettaglio esplicitando che cosa si deve fare e che cosa si vuole fare è assolutamente cruciale, altrimenti si rimane in un limbo in cui non si è mai sicuri di aver raggiunto alcun risultato. Anche in questo caso potete sfruttare la stessa logica del reward and punishment che abbiamo già visto. Ovvio, se vi cade un meteorito in testa o capita un imprevisto fuori da ogni possibile previsione, non dovete diventare schiavi del senso di colpa, ma piuttosto cercate sempre di rispettare i micro obiettivi che compongono le vostre giornate, rimuovendo non ho voglia dalle scuse accettabili. Questo step dura sempre due settimane e parte dalla seconda settimana del mese. Abbiamo appena detto che non bisogna diventare schiavi del senso di colpa, e sì, perché la pianificazione deve supportare la nostra motivazione e la nostra produttività, non abbatterle perché non siamo riusciti a raggiungere quello che ci eravamo prefissati, altrimenti diventa una prigione. E qui arriva la necessità di lasciare spazio a un certo grado di flessibilità, di avere la possibilità di aggiustare il tiro di volta in volta in modo da migliorare costantemente la gestione del proprio tempo a disposizione. Questa infatti è una delle abilità su cui insisto di più nel mio videocorso completo sul metodo di studio sistema DC, perché pensare di riuscire a programmare perfettamente la propria settimana al millimetro senza il minimo intoppo è una condanna al fallimento. Sbaglierete di sicuro e vi correggerete invece continuando a provare, è così che funziona. Quindi sì, pianificate in anticipo, preparate le liste di obiettivi a livello settimanale, ma imparate a capire i vostri tempi, quanto vi serve per comprendere a fondo un argomento, di quanti minuti di pausa avete bisogno per sentirvi rigenerati e pronti a riprendere lo studio, quante ore potete studiare ogni giorno senza impazzire, come distribuire il carico di lavoro e mille altri piccoli dettagli che non posso dirvi io, di cui vi renderete conto soltanto man mano che prendete consapevolezza di voi. La vostra struttura deve essere sostenibile nel lungo termine, per anni, mi raccomando. E ora, finalmente, siete pronti. Il Master Plan Questo è lo step finale, una tabella settimanale che suddivide le giornate in slot di mezz'ora il santo graal di studenti, lavoratori professionali e produttivi. Nel Master Plan c'è scritto tutto. I compiti da svolgere, i trend da prendere, le pause da fare, persino le finestre apposite per poter andare in magno. Ok, magari quello è un po' esagerato. Alcuni di voi staranno pensando che programmare a questo livello le proprie attività, le proprie giornate, sia una tortura infernale, un annullamento totale delle proprie libertà. Ma è vero esattamente il contrario. Sapere che in quel momento vorrete fare quella cosa e nient'altro è estremamente liberatorio, è prendere il controllo, vi permette di dedicarvi completamente. Inoltre, abbiamo appena sottolineato l'importanza della flessibilità e avere chiaro davanti agli occhi com'è organizzata la nostra giornata e la nostra settimana e ci permette, se necessario, di fare aggiustamenti o spostare delle attività. Non è una struttura rigida, è un supporto alla vostra chiarezza mentale. Quindi la domenica prendetevi il tempo per realizzare il masterplan della settimana successiva. Fidatevi, ne vale la pena. Personalmente, per me, è stata una svolta totale, per il mio livello di produttività e per la mia felicità anche. Se sono stato in grado di creare la quantità di progetti che ho realizzato finora e che continuo a realizzare oggi, lo devo in buona parte all'introduzione del masterplan e la mia routine. Non a caso è un pilastro fondamentale del metodo che insegno in Sistema DC, dove tra l'altro troverete un template già preparato per iniziare subito a portare la qualità del vostro studio a livello successivo. Il masterplan arriva all'ultima settimana di questo mese per trasformarvi e vi assicuro che da quel momento diventerà un compagno inseparabile che consulterete tutti i giorni, più volte al giorno. Ed eccoci qui alla fine di questo percorso che ci ha portati dallo stare sdraiati, svaccati sul divano con la maglietta imbrattata d'olio delle patatine all'esserci trasformati in maestri della pianificazione. Adesso tocca a voi e poi fatemi sapere com'è andata.